ingresso sul sasso ma quello lì anche io lo sottovalutavo invece è bastardo le ultime volte sono riuscito ma arrivo su male pago un piede e non so neanche come lo faccio però anche io pensavo era più difficile con la lag questa perfetto dentro di qua dentro di qua allargati ti devi allargare un po di più ok qua scendi giù sfiora qua e su di là si è finita lo fai ma cosi mi hanno detto metti giù la zona non dirmelo più dai che ce la fai michele si che ce la fai devi solo volerlo bravo 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 si a zero bravo basta ma sai che io faccio più fatica a fare quello lì no quella è in uscita vai perfetto con calma largati bene dentro là il davanti e leggerisci dietro per bravo bravissimo hai capito tutto va bene dai 6 a 1 rispetto ai 5 di prima e che c'è questo strunz che c'è strunz bravo Sì